E' durata poche ore la provocazione di un artista israeliano che ha installato clandestinamente in piazza Aiza Krabina Tel Aviv un'enorme statua dorata che rappresenta il premier conservatore Benjamin Netanyahu. Gruppi di manifestanti hanno abbattuto l'opera che è stata rapidamente rimossa dalle autorità del Comune della Capitale. Nelle intenzioni dell'autore Itai Zalait, l'azione avrebbe dovuto innescare una riflessione sulla libertà d'espersione in Israele.